In Kingslave Corporation e oggi siamo qui su Groove War per continuare la storia L'ultima volta ci siamo lasciati che dovevamo andare in montagna Messo la montagna però il fumo nero ci impediva la strada E quindi siamo dovuti andare con la strega ad Arfheim Per prendere la luce Abbiamo usato i Bifost, siamo andati ad Arfheim Abbiamo potenziato pure il Leviatano, vabbè, eccetera eccetera Vi ricordo di seguimi su Instagram, su YouTube e su Twitch Come Kingslave Corporation E si va avanti Ok, eravamo qui Perfetto Non posso Quoco da sopra Finista Aspetta di questo! Aspetta! Pronto padre Ok E qui abbiamo fatto Dopodichè andiamo di qua E qui Sì Ah ok, ora è arrivato più difficile Sì Sono fortunata Ah, teniamocelo stretto Sì 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 Mamma era una guerriera, mi dice Sindri Anche lei riguarda Più o meno La sua famiglia fu decimata dagli nemici Sopravvisse solo lei Divenne una guerriera Ma la sua guerra era restare viva Sopravvivere da sola a un mondo spietato Per questo chiese a Sindri e Brock di costruire le lascia Aveva la forza di brandire una tale arma E la saggezza per usarla a fin di bene Lei scelse di proteggere i deboli Quindi aiutò gli elti? No Anche ad Al-Fai vanno le vasche di sabbia Cosa chiede? Senza di me o dentro di me la morte è sicura Ma dentro di te io sono la vita più pura Ma non vedo rune nei paraggi Cerchiamola Torniamo alla barca Acqua Ma l'avete giocato Già l'avevo giocato subito Acqua La porta blu Deve essere questo l'ingresso Andiamo Sta attento Che fanno? Il punto è sparito Hanno coperto il cristallo con quello Perché? Per impedire i rinforzi Eccolo Per impedire i rinforzi Eccolo Per impedire i rinforzi Ah Oh Bene qualcosa è accaduto Credo Oh Che problema ha con noi? Noi non siamo di qui Vieni alla vasca di sabbia Mamma mia Hai mai conosciuto altri che sentivano le voci? Conobbi dei marinai che quando non rimase più nulla da bere si dissetarono con l'acqua di mare Credevano che le sirene, creature malvagie che cantavano dalle isole vicine Fossero le moglie e le figlie che li chiamavano a casa Erano un pericolo perché ci portavano verso gli scogli Ma poi cosa avete fatto? Le gettammo in mare Oh Meno male che non ho bevuto acqua di mare allora Già Come dicevo Seguidemi su Instagram Padre, le colonne ad anello formano una runa elfica Traccia Acqua Ehi Erano di nuovo le voci Ma erano voci diverse Meno arrabbiata Chiedevano aiuto Noi siamo qui per la luce Non mi importa chi siano e cosa vogliono Non ti importa mai mente Hai qualcosa da dire No No Che succede? Guarda qua Padre Sì? Le voci che sentivo non erano chiare Ma in sottofondo sono sicuro forse Mamma Non è possibile Ma l'ho sentito Atreus Basta Sembra diverso Guarda quelle cose Dietro di me Non è un buon segno Non è un buon segno Non è un buon segno Abita Cosa Na destra Summarrive Sopettina Attenso padre Stai lontano dalle gambe. Scusate un attimo ragazzi. 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 Ok. 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 non si passa. Peccato che la corda della strega non funzioni più. Sì, sì. Spero che non sia morta per aiutarci. Sapeva ciò che faceva. Ok. Altra roba. Se eliminiamo quella roba, il ponteri apparirà. Capito. Ci attaccheranno. Capito. Capito. Disponente. Disponente. Attento! Io ti sono. Un uomo in arrivo! È uno degli antichi! Come si uccide un essere fatto di pietra? Trova il suo, il suo debole! Mi hai staccato un pezzo! Usiamolo contro di lui! Let's go! Cuoco in arrivo! Ho un po' di fi! Guur! Ho un po' di fi! Qui è ottenuto! Un po' di fi! Uno po' di fi! Sì, non è vero. ma questa è bella questa è proprio bella scusate la rega questo stanno domani sciso tutti i muscoli vabbè La stai congelando Geniale Il punto è riappato Cerchiamo di salire Che c'è Asia Mamma mia Oh ma salte Guarda la porta blu Ci siamo Come va? Come va? Non mi abituerò mai a camminare sulla luce solida La porta Non c'è apertura Cosa? C'è un problema Questa porta non si apre Ehi Ma perché mettere una porta allora? Ehi Vieni Cerchiamo un'altra entrata Ricordo di seguirmi su Instagram Su YouTube E su Twitch Altre campane Deve esserci una cassa normata Aspetta un'altra A poco se lo va a cittare il video Cosa? 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 Oh Un po' di rabbia Un po' di rabbia Un po' di rabbia Ancora quel nano Sindri Ehi Sindri abbiamo qualcosa di interessante Ah si? Adoro le cose interessanti Un altro qui Ragazzo Ehi Sindri Daresti un'occhiata a questo? Caspita! Avete ucciso un antico? Si È stato difficile? Si Questo è tutto ciò che potete darmi? Si Come fai ad essere qui prima di noi? La nostra strada tra i regni è unica Magari è l'unico modo di viaggiare per voi Ma i nani sono pieni di sorprese? Non è una risposta Ah tieniti stretto questo senso di stupore Sono così pochi i misteri quando possiedi una tutta di conoscenze arcane pari alle mie Dove sei? No Come usarle per creare meraviglie oltre ogni immaginazione A occhi inesperti sembrano tutte magie? Ah Ah Vabbè Si tratta di magia Contenti? Sono sicuro che sarà utile Mastro a tre Come posso esserti? Che manca ancora? Questo non serve C'era altro che Questo Dovevo dire Se li vestivano tutti De qua E se continua Ci siamo Chissà Lo sapevo Dovevo dire Chissà Lo sapevo Chissà E rispondi le sue No Chissà Letta L'ho Chissà Chissà Gio Chissà Chissà Potremmo Grazie a tutti. 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 Ha funzionato. Altri ponti di luce. Grazie a tutti. 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 Grazie.